Nicolas Sarkozy sotto inchiesta per circonvenzione d'incapace nel caso Betancourt. L'ex presidente francese è stato formalmente indagato dal tribunale di Bordeaux al termine di un confronto con l'ex maggiordomo e altri dipendenti dell'ereditiera L'Oréal, che avrebbe donato ingenti somme a lui e al suo partito per la campagna elettorale del 2007. Diversi membri del personale della miliardaria affermano di aver visto spesso Sarkozy a casa Betancourt, circostanza sempre negata dall'allora candidato UMP. Sarkozy era stato convocato per la prima volta sei mesi dopo la sconfitta elettorale contro Hollande, allora ne era uscito in qualità di testimone informato dei fatti.